Ecco, abbiamo la meraviglia delle meraviglie, Maurizio, la sirena umana che si è gettato giù nell'acqua. Adesso arriva uno sci, poi arriverà lo secondo sci. Ok, ecco che sta per arrivare, il suo amico Anthony lo sta per gettare. Getta, getta! Sei pronto, Maurizio? Sei pronto? È lontano. È caduto, è caduto! Purtroppo è caduto, primo tentativo è andato a male. Erano troppo grandi, dicembre, colpa mia. Lui ha messo, adesso lo avete posto io e metterete come si fa a far uscire. Ok, ok, Maurizio, noi ci fidiamo di te. Devo dire che ci troviamo su un motoscafo veramente super veloce con il nostro capitain. Come si chiama, il capitano? Alfred, Alfonso! Alfonso, grazie! Alfonso, grazie! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti